Ciao ragazzi, ieri mi stavo annoiando e ho fatto un ricordimento dei miei profumi preferiti e in un giorno già sono arrivati, avriamoli! Allora, questi sono i miei profumi preferiti da una vita, adesso era un po' di tempo che li avevo finiti entrambi e non volevo ricomprarli perché ho tantissimi altri profumi, quindi volevo utilizzarne altri, però vi giuro che mi mancavano proprio, quindi ieri ho detto no, adesso li ordino. Ce la faccio? Cioè, ve lo dico, secondo me questi sono proprio i profumi più buoni del mondo. Il mio tesoro! Allora, ci sono dei piccoli regalini, cioè un bagno doccia e vari tester di altri profumi e poi ci sono loro! Allora, cominciamo, il primo profumo è Montale Caffè, io lo so che tutti voi lo avete provato questo profumo, cioè non ci vedo che non lo conosciate. E' bellissima anche la bottiglietta, io la adoro! Da quanto non lo sentivo! E poi, non uno dei profumi, ma il profumo Zetamorf, perché questo sì, è il profumo, cioè non è che ci stanno altri profumi, è il profumo, punto. E poi, quanto è bella la scatola, c'è già un profumo che ti danno sta scatola, tu dici vabbè ciao, ciao, anche come regalo proprio, cioè ciao, ciao. E' enorme, è enorme, è enorme! No, questo profumo voi lo spruzzate, vi rimane su tutti i vestiti, cioè proprio sarete identificate grazie a questo profumo. Mamma mia, mamma mia, io stavo in astinenza. No, no, adesso finalmente profumo di nuovo. Adesso finalmente profumo di nuovo. Ciao!